Buona la prima. Per la Virtus Lanciano, l'amichevole del Guido Biondi con l'Avellino, al di là del KO e Rigori, ha messo in mostra una squadra già sulla buona strada. Nonostante il cartello lavori in corso, in casa Rosso Nero i ragazzi di Daversa hanno fatto vedere di essere in palla. Al cospetto di un Avellino che parte tra le favorite del prossimo torneo, Mammarella e compagni hanno tenuto botta e risposto colpo su colpo. A dirla tutta, dopo il 3-0 per i Frentani, la gara sembrava chiusa, prima del ritorno degli Irpini, bravi a crederci e a prevalere poi a Rigori. Nel match si è visto un Babatiam già in forma campionato, la doppietta dell'attaccante africano e di buon auspicio per la nuova stagione. Voto con l'ode anche per il portiere Branescu, autore di almeno quattro interventi miracolosi. Oggi è lui il titolare della Porta Rosso Nera. Nella serata un pensiero è andato anche a Lorenzo Costantini, a cui è stato devoluto l'incasso di 10.000 euro. Il giovane Frentano, che una volta raggiunti i 450.000 euro necessari, volerà negli States per sostenere un'importante operazione chirurgica. Tornando al calcio giocato, il pensiero di tifosi società resta però ancora al mercato. C'è da rinforzare la squadra, che avrebbe bisogno di almeno 3-4 elementi. Sul taccuino del DS Luca Leone ci sono diversi giocatori. L'imperativo riguarda il centrocampo, orfano rispetto allo scorso anno, dei vari Büchel, Casarini, Minotti e Germano. Il lanciano, per rinforzare il settore nevralgico, segue Marco Pinato del Milan, Leonardo Capezzi della Fiorentina e Roberto Gagliardini dell'Atalanta. Per l'attacco si pensa al croato Petkovic, ex Catania. Il giocatore deve però superare le visite mediche. Al momento, in avanti, il lanciano può contare su Babatiam e sul giovane Fioretti, aggregato dalla Primavera in prima squadra. Il lanciano ha bussato la porta del Milan anche per la giovane punta Ezechiel Antti. Come attaccante esterno si guarda l'ex pescarese Gian Mario Piscitella. Dopo l'amichevole di ieri, la società ha concesso due giorni di riposo ai Rossoneri, che si ritroveranno nel ritiro di Roccaraso agli ordini di Daversa, mercoledì pomeriggio. La seconda amichevole della stagione si giocherà ad Eboli con la Salernitana il 7 di agosto. E proprio la Salernitana sfiderà il 10 agosto l'Alessandria nel primo turno eliminatorio di Coppa Italia, con la possibilità, in caso di successo, di affrontare nuovamente i frentani.